Benvenuti, andiamo a registrare un po' di partite di Ace of Spade, non so neanche il perché, in effetti, ci abbiamo provato anche quelle volte, perché andrà questa volta, Mille. Spero di sì, perché campazzo dovrebbe essere carino. Eh, dai. Comunque, eccoci con Turambar e Turamart, ma tu sei con la squadra degli altri, giusto? Sì, sono ancora. Qua sei già tra uccisioni, ma che merda che sei. Avevi solo la 17. Mamma mia, mamma mia, crepa, no, pite colpi. Sono io che va a stare, sì. Uuuuh, incredibile. Ma qualcuno dietro mi ha sparato con lo shotgun. Sì, sì. Cattiva, cattiva. Vado in una scoperta, cattivissimo. Uuuuh, è un shot incredibile al primo colpo. No, adesso muori, adesso muori. Uuuuh, mi hanno distrutto. Ho visto, SMG vuol dire che ti hanno sparato tanti quei proiettili in corpo che... Ma perché non muore? Non ci credo. Uno ha scritto tipo, only English in Russia, aspetta che scrivo, c'è anche l'Italia. C'è anche l'Italia, puto de madre. Puto de madre. C'è anche l'Italia, puto de madre. Ender, che... Vuole arrivare a parlare. Rettigliani. Eh, cosa? Rettigliani ci sono. I Rettigliani. Rettigliani sono quelli di... Quanto è? Uuuuh. Questo qua gli ho tirato tante... Gli ho tirato tutte in testa. Eh, vabbè, è stata cattiva, aspetta. Mamma mia. Mi stanno distru... Eh, beh, beh. Va bene. Ma quante uccisioni sei te? Eh, tipo... 16, 20. Te ne sono il primo. Uno ha scritto, iti ut suvassini italianoschi sului. No, sului. Sushi. 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 Ma non è sushi? Eh, vabbè, dai, gente strana. No, no. Ma perché siamo in un server russo, mazzo? Ma perché sono... Boh, sono più cattivi su questo server. Sai che sono proprio cattivi? Comunisti, basta. Comunismo insegna, comunismo insegna. Uh, questo qua è stato cattivo. No, dove sono caduto? Ma che marco brutta. E' buio, figlio. Eh, è notte. Sai che anche qua c'è il giorno e la notte. Sono fatti con una pratica magnifica. Ed è shottato in maniera incredibile. Eh, ma guarda che stiamo... Abbiamo una posizione stravantaggiosa. Uh, questo qua è il terzo. Questo qua è il terzo. Questo qua è il terzo qui. Guardi, ma saltano fuori dal terreno. Ci sono... Perché questa... Potremmo diaccare la stessa squadra, comunque. No, è il più bello contro. Eh, ma contro ti distruggo. Sì, sì. Lo vedo, lo vedo. Madonna. Mi ha quasi ucciso. Uh, brivido, brivido. Oh. Eccoti lì, cane. Ci stanno i brividi. Eccoti. Madonna. Ho 18 di vita. Il brivido. Ma perché non è morto quel tipo lì? Uh, che bastardo. Devo, quanto sto giocando male, sì. E quanto sei? Sei uccisioni, buttale via. Sei su da due minuti. Sì, ma sto morendo più volte di quante... Eh, quante volte è risorto Gesù. Ma non sapevi cosa dire. Ma è che sono concentrato? Ma perché continuano ad uccidere? Deva, e poi te è ormai tutto notte. Mamma mia, muori. Barrutto cane. Uso un po' di granate. Hai kill. No, no, no. No, a te. Aspetta un attimo, chiudo la porta e arrivo. Ai cazzo. Che scemo che sei. Uh, uh, uh. No. Perché è così? Ah, sono tornato. Fum fatica. Adesso posso porconare quanto voglio. No, dai, non farlo. Che dopo... Dopo ci faccio il video e dopo lo mettono con... No, non mettono. No, sono io. Sono te. Sì, ero io. Perché quando vedo uno che spara e tu che dici crepa, a me si capisce. Ma vedi che... Farò un assalto incredibile. No, è c'è dall'altra parte. Ah, non. Sono uscito con lo spade stracattivo. Ah, e me ne sono ritrovato uno davanti. Che per fortuna che era mezzo coglione. Uh, ho ucciso Miklua. Uh, mi stanno sparando cani. Uh. Ah. E non sono neanche stato io ad ammazzarti. Uh, questo qua è stato... Ma questo qua è bravo a giocare. Stalker. Ma dai. Ti segui. Ah, ma non ne uccido mezzo, eh. Quanto faccio schifo. Siamo lì tutti sulla vo... No, neanche. Sì, no, ne stiamo arrivando... Sì, ma mi sono schiacciato una palla. Mi fa un male, è assurdo. Ah, anche se... Ho un pal di pancia in questo momento, che è la metà bassa. Vivevo, vivevo anche senza saperlo se è per quello. Però vabbè. Ah, ma quanti sono qua? Eh, allora, ce ne sono lì. Cinque, sei di davanti, ne stanno arrivando altri tre. Dai, uso l'arma dei noob adesso. Cioè, la granata. SMG a male. Ah, ok. L'SMG è il miglior, lo uso anche per fare il cecchino. Mamma mia! Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Che troia. L'arma dei noob colpisce ancora. Hai avuto un culo che io non lo so. No, mi hanno rubato l'uccisione, qui cazzo. No! Ma c'è una squadra, io provo a fare squaduno. Però sono tutti qua e sono con lo spade. No, non c'è nessuno. Giuro. Vado di spade. No, fermo. Devo scrivere... Ah, è bruttissimo. Squadnone. Madonna, crepa. Chi è che spara in su così? E' che ha sprecato un intero caricatore in aria. Che tristezza. Siete tutti qua, in una trincea. Sta diventando una guerra di posizione. Questo qua? Ma che malvagio! Crepa! Ma che ignorante! Ma sta registrando seriamente. Cosa? Sì, dai, buona. Durazio in 5 minuti, però. Durazio? Durazion, c'è scritto. Ma c'è in inglese, scusami. Ma si potrà? No, io tutte le cose in inglese le voglio in inglese. Cioè, adesso... Ah, no, aspetta, Camtasia. Mi sa che ce l'ho in inglese anch'io. Adesso che ci penso. Anche perché a cosa serve la... Cioè... Ma... Senti qua, lo odio. No, vido davanti, cane. Ma dove siete adesso? Mi aveva scoperto che non ti dico. Guarda che avete ripreso tutto, né? Mamma mia! Ma ci sono disconmessi tutti, i verdi. Ma che cari che sono. Mamma mia! No! No! Guardiamo quant'è ne stai uccidendo. Sto andando... No! Sono un pollo. Con rifle, tra l'altro. Farsi uccidere... Farsi uccidere con rifle, penso che sia la cosa più... Prima di tutto, non perché continuo a correre con altre. Mazza, è sempre la stessa storia. Skyrim è più forte di qualsiasi gioco. No, no, è più forte. Comunque ti stavo dicendo che non è vero che vi siete discollegati tutti. Muori, cane! Ho sete! Ho sete di sangue! No, che... Che... Da dove? Da dove? Eh? V'è stata bella questa? Ma come? Non puoi avermi deciso in quel modo sceno. Corri, ragazzo! Ah, si è ucciso da solo. Pur di uccidermi me, si è ucciso da solo, sto bastardo. No, ma era meglio se usavo il cecchino, sto schefo di... Ma sì, ci ho pensato anche io, però a te non so più capace di usarlo. Da dove? Sei spuntato! Ti sparo fino alla morte adesso. Sei lì, lo so che sei lì. Ma perché io seguo i tunnel dei tipi che fanno cose... Ma Dio, salve, che rabbia. Corri, 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 hava scoperta incredibile. Tra l'altro... Giù, 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 giù. Perché sono caduto in un tunnel? Brivido. Ti giuro, brivido. Dai, vai giù. Perché non va giù? Ma che cazzo vuoi? Perché non mi va giù nel buco? Nel bunker. Ah, perché non c'è un bunker. Ah, va scoperta! Uh, ne ho ucciso uno. Ma che hanno ucciso loro? Ma in culo. Pensavo di essere caduto in una fossa e essere inserbata. Ma stanno facendo cose troppo assurde. Ma che cazzo è sta roba? Ma... Roba assurda. Cioè, fanno degli scavi archeologici qua che neanche... Anche quando hanno sguagliato a scoprire... Abu Disconnect. Come fai a chiamarti Abu? Uh, che lag incredibile. Attenzione, lag incredibile. Comunque, se lo spedio, ogni tanto ci regala di quei lag, che è la metà master. Ma davvero? Ma guarda che... Di quelle cose oscene che ti ritrovi da tutt'altra parte. Con i per tre ore ti ritrovi... Né, vai per un set, set, set e chilometri. Fende tutto dal ping. Ma qualcuno l'ha one-shotato qua giù. Oh, attenzione. Mamma mia. Bandera è morto. Bandera è morto. No. Pura Mart colpisce ancora. Che cazzo. Ma non c'è una squadra? Uh, granata, granata, mi hanno ucciso. Minato mi continua a uccidere, bastardo. Te, ma quanti si sono scollegati adesso tra tutte e due le squadre? Siamo in strapochi. Ma che ore sono adesso in Russia? A fine... Le otto di sera, Savan. Buota. Sono avanti tre giorni rispetto a noi. Ma perché la rosa è talmente lunga che ha 67 fusione rari, più o meno. E ma chi è che... Perché ha fatto i... Uh, granata! Madonna. Sei lì? Ne vedo uno lì che sta sprando. Adesso devo fare la stronza. No, quanti siete? Ero io da solo, eh. Buota, ma... Cioè, la vostra base... Uh, ne è stato bandato per sette. Giorni. Che scemo. Buota, sì. Uno ha scritto proprio... Regione del... Ragione del Votechic. Mi ha ucciso da dietro un muro, tipo. Ha uno scritto così. Sai che sai, si scrive hacker e così. Se ci sono problemi, tipo. Problemi, dico. Ah, sì, problems. Buono, lo so. Che tunnel non c'è qua sotto, fi? Guarda, ma che sta mappa qua è fatta apposta per i tunnel. Guarda, ma che pare? Far su un tunnel. Ma c'è gente... Ma hai presente quanta gente che le fa? C'è gente che vive e sale sui sospetti solo per fare i tunnel. Ma che colori ci sono qua sotto? Oddio, mi sale una vostra base incredibile. Eh, sì, sto arrivando a prenderti. Ma cos'è? C'è i trucchi, te. Oddio, dove sono? Oddio! Eh, vedi. Eccale, hai usato i trucchi. Come facevi a sapere. No, perché sono caduto l'entro prima io lì e c'erano cose strane. Non so se un tipo ho messo a costruire... Sembrava la segnalitica stradale. Adesso vado di cecchino incattivissimo. Come direbbe qualcuno, incagnatissimo. E visto che costruzioni che fanno per tirare sull'Inter. Sì, ma non mi ricordo dove che tunnel ho preso adesso, però, porco. Oh, cazzo, chi è sto tipo? Ah, ok, partito già il voto è kick per sto tipo. Per chi? Questa server qua, io non lo so, si riunisce tutti gli acro, tutti i coglioni della terra. C'è gente che fa tempo a salire, sta su 5 minuti, poi viene bannata. Ma questo qua ogni... Cioè, lei vota anche io yes, anche se non so per cosa. Grande, lo vedo, lo vedo il tuo voto. Uh, vota, guarda figli. Cioè, dai, dai, dai in piedi. Ti hanno ucciso, casco Allen. Questa ma falle a the shot, corre. E intanto ti spara, ti ammazza con le a the shot. Si chiama essere grandi pro. No, penso che è di 9. Uh, due colpi alla testa per uccidere. No! Sei un cane bastardo. Due colpi alla testa per ucciderti. Spero tu possa finire munizioni durante un assalto stracattivo e morire. Mi ha già capitato. E una volta sono andato avanti con lo spade e ne ho ucciso altri due con lo spade. Adesso provo ad andare con lo spade e voglio vedere quanti ne uccido. Zero. È proprio... Allora, è una mappa di cecchini questa e tu vai avanti con lo spade. Uno lo uccido. No, mi stanno già sparando. Ah, è qua. Mi hanno ucciso. Ma buttatelo fuori sto tipo. Casco allen. È in botte. Potete fate slash i? Cioè, Dio santo, se non sanno anche quei trucchi. No, devi non seguire quei trucchi che ti bannano. Sì, sì, a me di sicuro. Ma i suoi server in Torino mi avevano bannato per sette giorni. No, no, non ti avevano bannato per sette giorni. Era di meno. Te basta. Non sono capace di usare il cecchino. C'è nessuno. Ma dai, coi trucchi. La scrivo anch'io. Fate tutti così. Dai, ne mancano due, tra l'altro. Se no, siete gay. E visto che in Russia i gay vengono... So it ho scritto. Che tristezza. So, sen, so it. Vedrai se non fanno tutti. No, adesso. Ma è già stato... Ah, no, è stato. Come Vladimir. Perché uno ha fatto slash e ti? Per quale motivo? Tra l'altro, non l'ha neanche buttato fuori. Ma che gente ignorante. No, lo votechicco io adesso. Aspetta che uccido quel bastardo che sta camminando. No, no, mi stanno sparando. Brivido, brivido, brivido. Corri, 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 corri. Adesso gli lancia una granata. Uh, bastardo. Quanto sei bastardo. Madonna, quanto odio questa... C'ero qua anch'io insieme. Ti aspetta. Diciamo che la metà dei colpi che ti hanno ucciso li ho sparati. Votechic... Com'è che si chiama? Che non mi ricordo. Car... Casco. Con la K. Con tutti i due K. Casco Allen. Casco Allen. Rison. Cosa metto? Sei un figlio di... Guarda. Dovreste incazzarvi solo per il... Cosa sei? Ma non ci sono uno che non ci usi 67. Madonna, quanto cimbo... No, finite le munizioni. Io odio questa vita. Teo. Te l'ho fatta solo 15 uccisioni, ma che tristezza. Ma te ne fai sempre così tante. Sei un figlio di Troia, Rison. Sei un figlio di Troia. Guarda, ma perché la vedi che le mie granate sono fatte di più mini? Game finished. Next. Forza. Mi sembra che la prossima è fatta, è bella. Spero. Mi sembri... Uh, è stato bannato, sì. Ma per 15 minuti, ma che schifo. Eh, quando fai così che non è sicuro... Anche perché la Rison non era poi chissà che cosa. Vabbè, cazzolini. 15 minuti, comunque, facciamo in tempo a fare niente.